Ciao a tutti amici dell'acquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Ragazzi la lettura di oggi è una lettura senza tempo, ovvero ha una durata di tre mesi da quando la ascoltate. Ne ho già pubblicate due, una a maggio e una a gennaio, le trovate nella sezione dei video mensili, dovete solo scorrere un po' per andare a trovarle, però così se volete rivederle potete andare a vedere l'evoluzione temporale. Bene, mostrami, acquario, tendenze energetiche e karmiche per il prossimo trimestre. U la la! Abbiamo una carta degli amanti, quindi qui si tratta o di amore o cioè amore verso gli altri o amore verso se stessi. E' interessante, potrebbe anche essere una scelta appunto per amor proprio. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nullo, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il secondo semestre del 2024 che sono quattro, una generale, una sull'amore, una sul lavoro, una sulla crescita spirituale e sempre nella descrizione troverete anche i link dei video corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno di metafisica e uno sui tarocchi. Sono tutti e due corsi base. In più, l'ultima cosa ragazzi, per tutto il mese di luglio ho in promozione la lettura semestrale che è una fotografia del vostro prossimo semestre, delle energie disponibili per il prossimo semestre su vari settori della vostra vita. Poi se le volete sapere di più mi potete sempre contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione dove c'è scritto tutto. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un re di spade, tre di coppe, sei di coppe, tre di spade, dei compiti, re di pentacoli, otto di bastoni, regina di bastoni potrebbe essere un proprio un tema con qualcuno è un tema relazionale quello che mi colpisce che avete 33 3 di coppa e 3 di spade 3 di pentacoli l'energia 3 insomma andiamo a vedere il di spade 3 di pentacoli e 10 di spade voglio andare anche tra di coppa cavaliere di coppe imperatrice e imperatore ragazzi diciamo che siete in una relazione con una persona potrebbe fortemente essere una relazione di tipo romantico se non avete niente in questo momento se non avete nessuno vi dico che ci potrebbe essere poi qualcuno nel prossimo trimestre con la quale sì con il o la quale persona si potrebbe iniziare veramente un qualcosa di potenzialmente grande ma qui ho la sensazione che il nostro tema da lavorare sia la fiducia andiamo a dare a 6 di coppa fante di spade mondo ma per qualcuno ci potrebbe essere sì l'energia 3 potrebbe riguardare io tu e un eventuale figlio se non è un figlio in senso classico si può parlare sapete lo dico spesso nei tarocchi la parola figlio la parola progetto possono essere interscambiabili che è l'atto di creare qualcosa in questo caso e per qualcuno ci potrebbe essere questo tema però come l'idea che la coppia sia ben ben equilibrata in questo caso anche se è una questione lavorativa e ragazzi se per voi ci fosse un tema lavorativo che vi risuona sia la proposta che potrebbero farvi sia la relazione che potrebbe esserci promette bene qui secondo me il punto è allora ve la dico così come uscire dall'infanzia per qualcuno per qualcun altro come vi ho detto c'è qualche tema legato ai figli quindi un po come chiedetevi se volete dei figli se con questa persona li potete avere temi diciamo un po più generici rispetto c'è temi che riguardano tipo la vostra vita io nella mia vita mai pensato di avere un figlio sono sicuro di non voler o di voler figli con questa persona mi vedo avere figli cioè cose di questo genere perché è veramente quello che può nascere potente e vi dirò che a qualcuno risuona anche il discorso che ci si deve ci si dovrebbe o potrebbe spostare con questa persona perché il mondo mi parla di traslochi fondamentalmente devo vedere tra di spalle io credo che ci sia come un tema legato al sacrificio cioè a quello che voi dovreste sacrificare se iniziaste quel tipo di percorso che potrebbe essere da un lato ci sono come delle cosette che potreste anche lasciare andare che bene o male chi se ne frega però dall'altro lato c'è quella sensazione di libertà che secondo me vi pesa un pochettino lasciarvi indietro perché quando uno poi è in una relazione si si può essere indipendenti all'interno della relazione ma non si è mai completamente liberi cioè voglio andare in vacanza insomma ne parlo col partner invece quando sono single prendo parto vado andiamo a vedere tra di pentacoli 2 di pentacoli 6 di spade 10 di coppe si ragazzi come se questo progetto partisse magari un po stento all'inizio però sento che si parte c'è di nuovo che una carta di spostamento è una carta anche di compimento devo vedere lotto di bastoni re di spade 2 di spade morte e luna voglio andare a vedere anche la regina di bastoni 9 di pentacoli 9 di pentacoli cavaliere di pentacoli e sacerdotessa guardate ragazzi alla fine di tutto questo bel po di roba che vi ho detto sento che ti ererete indietro arriverà un qualche tipo di comunicazione che vi metterà dei forti dubbi probabilmente iniziando questo progetto iniziando a incamminarvi in quello che potrebbe essere la conoscenza vi dico potenzialmente io la sento bellissima la relazione ma è come se aveste delle strutture mentali legata al senso di libertà che vi dicevo prima che a un certo punto vi faranno tirare indietro nei confronti di questa persona è come se ad un certo punto si arrivasse ad affrontare un discorso e voi dite no ok così non va bene no aspetta un attimo è veramente la persona che voglio veramente la relazione che voglio il lavoro che voglio il progetto che voglio si sento che gli amanti potrebbero più essere una scelta per amor proprio in questo caso visto che comunque abbiamo anche il 9 di pentacoli che è una carta che in effetti che mi parla di amor proprio qui se vedo le paure che potrebbero ritornare a galla o venire semplicemente a galla guardate considerato che partiamo da un 10 di spade per qualcuno potrebbe essere una nuova conoscenza che potenzialmente ha del valore ma è più l'idea di perdere la libertà che vi frena e che vi farà tirare indietro secondo me che vi farà rimanere lì dove siete anche se poi c'è questo discorso del trasloco piuttosto che del progetto insieme piuttosto che del figlio è bello vi attira come la sensazione che potreste apprendere molto da questa persona però è come se non voleste sacrificare quella parte di voi per costruire magari anche perché quel per qualcuno sente che non ne vale la pena con questa persona poi se volete vedere come va avanti ci vediamo tra tre mesi quando farò la prossima lettura però questo è un po è un po quello che sento per il prossimo periodo c'è come una chiacchiera qui che metterà le cose in chiaro e che appunto più che mettere le cose in chiaro porterà a galla delle cose sento e queste cose vi faranno venire dei dubbi e siccome non riuscite ancora a vederci chiaro sento che rimarrete piuttosto sulle vostre rimarrete prudenti se non addirittura fermi statici completamente sulle vostre diciamo così ok ragazzi quindi si tratta di sviluppare l'amore proprio ma io quello sento molto come intuito sapete è amore per se stessi amore per quello che voglio amore per per la mia libertà per la mia essenza il sole mi parla molto di essenza di chi sono io del mio bambino interiore di che cosa mi fa gioire di quello che mi rende allegro di quello che mi fa sentire vivo e probabilmente può anche essere che questa persona sia per qualcuno più grande di voi per qualcun altro non è necessariamente l'età che fa la differenza ma il modo di pensare e che quindi possiate percepire una sorta di minaccia per la vostra libertà va bene andiamo a vedere osho che cosa ho visto repressione il fulmine e la fonte notare i colori che sono uguali per tutte le carte in dosaggi diversi però è come se ci fosse qualche cosa che vi pesa questo 10 di bastoni questo 10 di spade perché avete bisogno di rompere per trovare la vostra essenza e la torre secondo me potrei proprio si metterla qua sotto questo 3 di spade rompere gli schemi di sacrificio rompere gli schemi di sofferenza rompere gli schemi di pianto perché qui c'è una sorta di repressione che potrebbe essere a causa di quello che voi pensate gli altri si aspettino da voi in realtà fate tutto da soli quindi rompete questi schemi semplicemente esistite non vi fate tutti questi problemi mentali vado bene così non vado bene così cosa si aspetta cosa non si aspetta semplicemente questa è la mia essenza io sono così e così non esiste quel rischio di sacrificare una parte di voi basta mostrarla subito basta darla subito io sono anche questa chiaramente ponderate sempre bene quanto è a chi dare ok però questo è un po il messaggio che avevo per voi cari amici dell'acquario fatemi sapere nei commenti come vi risuona se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi condividere il video o lasciare una piccola donazione se poi volete iniziare un percorso di crescita con me vi consiglio di scrivermi un email così vi spiego un po come funziona tutto il discorso delle credenze limitanti diversamente se preferite andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale spiego anche di i temi delle credenze limitanti sono un po più diluiti nel tempo sono un po meno specifici perché chiaramente non c'è rapporto a tu per tu però comunque già vi dà una traccia di come lavorare sulle credenze limitanti di come integrare le emozioni negative di come pulire i chakra insomma è un insieme di 26 7 anni di studi miei che io ho semplicemente riordinato ok e ve li sto dando per facilitarvi le cose bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao